Dunque Albi, una vittoria importante oggi contro All4One, avete mosso due passi in classifica, siete tutti vicini, opzioni completamente aperte in vista del proseguo della manifestazione. Sì, ho stato due punti importanti, una vittoria importante, adesso siamo tutti attaccati, l'importante è non perdere il ritmo, la concentrazione e fare bene anche le prossime due regate. Allora il gioco cambia. Qual è stato il momento cruciale della regata? Perché siete partiti, siete stati protagonisti di un'ottima pre-partenza, però c'è stato un dial down con All4One, insomma un avversario duro a morire. Sì, la partenza ottima di Gavin, abbiamo fatto un ottimo controllo, una dial up perfetta, controllando la barca fino all'ultimo, una bolina difficile, abbiamo gestito bene la dial down e ci siamo presi un piccolo vantaggio anche lì, anche se comunque lui ha girato attaccato a noi, poi bene le strambate, pochi errori e chiaramente chi fa meno errori e sta sempre in controllo in un campo di regata così, abbiamo visto, è difficile farsi passare. Domani ci sarà un qualcosa di diverso, siete a bordo di questi DAO, di queste barche di 60 piedi tipiche della cultura medio orientale, insomma cosa ti aspetti da questa giornata? È sempre bello, io adoro cambiare, adoro navigare e adoro provare nuove cose che possono comunque darti un tocco di esperienza in più anche nelle barche con cui navigo normalmente, per cui sarà un'esperienza unica, credo sia una delle prime volte che un non orientale, non un medio orientale, navichi su queste barche, per cui credo sia una cosa storica. Grazie a voi. Grazie a voi.